Ciao, sono Roberta Rabuazzo, gestisco l'azienda agricola Sciuri già da diversi anni. La nostra peculiarità è quella di essere un'azienda a carattere familiare, da tre generazioni ormai. Noi in particolare coltiviamo ortaggi e facciamo anche le trasformazioni. Abbiamo con tanta felicità deciso di aderire al progetto delle coproduzioni e in particolare noi aderiremo quest'anno in prova con carciofi e finocchi come prodotto fresco e i trasformati, i carciofi sott'olio, i carciofi al naturale, che sicuramente già conoscete, e i patè di carciofi. Il progetto delle coproduzioni porta con sé delle motivazioni interessanti per rafforzare i rapporti tra produttori e voi consumatori e avvicinarvi anche ai processi produttivi con le diverse stagionalità, soprattutto in questo periodo che il clima sta cambiando e stanno subendo anche le produzioni, diciamo tanti cambiamenti. Portare avanti questo progetto di coproduzioni ci permette di programmare in modo più efficiente le lavorazioni sia in pianti quindi di prodotto fresco ma anche appunto le trasformazioni. Per esempio il carciofo viene trasformato in un periodo molto breve che è quello della primavera, quindi quando c'è il carciofo fresco. Il terzo e non ultimo obiettivo è quello di evitare gli sprechi, gli sprechi di cibo, gli sprechi di produzione e anche di prodotti che magari possono non essere preferiti da voi. Veniteci a trovare, scegliete il periodo che più vi aggrada, consultando anche la sezione specifica del nostro sito per quanto riguarda le coproduzioni e dove troverete tutte le informazioni necessarie per poter scegliere. Grazie, ciao! Grazie a tutti!